ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dove vedremo come entrare nel menu segreto delle mn3 il media nav 3 innanzitutto dobbiamo recarci sul sito di dacia duster forum italia che ringraziamo sotto il video trovate il link vi invito anche a farvi un giretto sul sito perché si trovano dei tutorial molto interessanti una volta andati sul sito io vi ho linkato direttamente il tutorial che vi spiega come entrare nel menu segreto allora iniziamo come dice anche la guida per entrare nel micon manager dobbiamo scaricare questo file.ini che potete scaricare qui e che è compatibile per le versioni del media nav 3 per tutte queste versioni adesso dipende dall'aggiornamento del vostro media nav quindi andiamo qui sopra da qui scaricate il file che è un piccolo file una volta scaricato questo file prendete una chiavetta usb la dovrete formattare in fat 32 pulsante destro formatta in fat 32 e copiarci il file all'interno successivamente andiamo in macchina accendiamo il motore accendiamo il media nav andiamo in impostazioni sistema versione di sistema e inseriamo la chiavetta nel media nav da qui dovremmo fare cinque tap in ordine numerico proprio come vedete dalle immagini ci comparirà la schermata test mod da qui dobbiamo inserire alcuni codici che cambiano in base alla vostra versione vedete ad esempio per chi ha questa versione 1.0 13 deve inserire questi codici qui per chi ha la versione che finisce con r39 deve inserire questi altri codici e così via e per farlo dobbiamo prima digitare il codice ad esempio prendiamo il primo quindi digitate prima 8457 successivamente andiamo su ok poi cancellare i numeri inserire di nuovo quest'altro codice 7777 infine dare ok vi ripeto però dovrete inserire il codice in base alla vostra versione quindi attenzione a questo passaggio da qui comparirà questa finestra e per entrare nel micom test in menu segreto dobbiamo tappare sulla voce micom test da qui comparirà la schermata del micom manager dove vi invito a stare attenti perché è possibile attivare tante funzionalità ma è possibile fare anche tanti guai fino a bloccare il vostro media nav e vi ricordo che comunque entrare nel menu segreto e ovviamente attivare delle funzionalità porta comunque al decadimento della garanzia per i più interessati o i più curiosi alla fine di questo tutorial trovate i vari comandi del micom per non utilizzare il tuo video e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ciao a tutti